Rispetto al tema della disabilità visiva credo si debbano affrontare temi specifici. Le leggi riconoscono mansioni, pensiamo ad esempio al tema dei centralinisti che per anni ha accompagnato la possibilità di inserimento lavorativo delle persone con disabilità visiva. Oggi questa funzione all'interno delle organizzazioni, anche le più semplici, è una funzione che è venuta a meno per l'uso della tecnologia e quindi abbiamo bisogno di ripensare ad altre funzioni che possono essere identificate all'interno del mercato del lavoro. Questo non può che nascere da un confronto comune, partendo anche da quelle che sono l'analisi dei fabbisogni che le aziende rappresentano e quelle che sono le potenzialità delle persone con disabilità visiva. E credo che ad esempio le potenzialità della legge 68 siano potenzialità ancora non tutte espresse in favore della disabilità in termini complessivi. La riorganizzazione dei servizi per l'inserimento al lavoro delle persone disabili è una riorganizzazione che ha avuto tempi un po' lunghi ma che oggi mi sembra completata e quindi una nuova governance che può partire per rispondere alle tante migliaia di persone che sono iscritte al collocamento obbligatorio. Grazie. 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 Grazie.